Questo è un brindisi molto importante, perché loro in preparazione di questo viaggio che sognavano. Dopo che è venuto lo scorso anno, vi ricordate? Pensate quante cose si sono messe in movimento da quel benedetto film. Allora loro hanno voluto prepararvi una sorpresa. Sono andato in queste montagne selvagge della Georgia, quasi 3.000 metri di altezza, che confinano con la Cabardino-Balcaria, con l'Inguscezia, con la Ossezia, con il Dagestan, con la Cecenia, con l'Azerbaijan, per cercare un canto speciale per premare. E dopo lunghe ricerche, in mezzo sono queste montagne selvagge, impossibili, senza strade. Vi posso far vedere le foto, dopo. Un posto incredibile. Sono riusciti finalmente a trovare un canto per voi, che adesso vi faranno. vi prego di ascoltare con grande attenzione questo antico canto giorgiano delle montagne selvagge. vi prego di ascoltare con grande attenzione questo antico canto giorgiano delle montagne selvagge. vi prego di ascoltare con grande attenzione questo antico canto giorgiano delle montagne selvagge. vi prego di ascoltare con grande attenzione questo antico canto giorgiano delle montagne selvagge. vi prego di ascoltare con grande attenzione questo antico canto giorgiano delle montagne selvagge. vi prego imparare con grande attenzione questo antico canto Hassel交zello, Grazie.